Tanti auguri, buon Natale a tutti quanti, chiaramente. Solo una cosa, perché votare la Lega e votare Fontana alle prossime elezioni regionali? Lo so che non vi devo convincere, ci mancherebbe, però vi do qualche spunto attraverso il quale potete convincere magari il vicino di casa, il parente, l'amico, il macellaio, l'edicolante, quel che l'è, che è indeciso. Ah sì, tanto io voto il centro-destra. Come voto il centro-destra? Io sono una roba, che è questa roba qua, vedete, qua è piccolino, la Lega è una roba grande, è una famiglia e siamo tutti quanti, vero o no? Vero o no? Allora, uno, noi siamo quelli che hanno portato le Olimpiadi del 2026 in Lombardia e voi direte, vabbè ma le Olimpiadi non è che ci frega, sono i Battellina, Borneo e Livigno e dall'altra parte continua, no? No, grazie alle Olimpiadi, qualche annetto fa, un ragazzino che arrivava dal comune di Milano, che si chiama Alessandro Morelli, dice, mi passi sotto il naso la prima manovra economica, la prima che mi è capitata, grazie a questo signore lì che si chiama Matteo Salvini, che ha fatto diventare parlamentare alcune delle persone che sono qua. La prima, faccio un emendamento che poi viene approvato grazie al nostro senatore Romeo, perché io lo sono alla Camera, quel giorno lì, quell'anno lì, toccava al Senato. Quell'emendamento vale 900 milioni di euro, che porta la M5 fino a Monza, fino a Monza, e cosa significa questo? Che per arrivare tra Milano e Monza passa proprio dalla Martesana, e quindi c'è Di Stefano, c'è i Bilardi, che hanno discusso su dove fare le fermate la metropolitana in Martesana. Questa è la Lega dei fatti, non quello che bla 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 per due anni si sono lamentati, sono stati all'opposizione, oggi siamo tutti alleati e li vogliamo tanto bene. Però intanto noi, la Lega, ha portato la M5 e quindi le fermate la metropolitana in Martesana. La Lega, attraverso il Ministero di Salvini, che porta avanti il nostro lavoro chiaramente, ha intenzione di fare la M6 verso l'Opera, poi ci sono gli amici di Opera. Ancora stiamo parlando di Martesana e quindi, ancora una volta, vi dico perché votare la Lega. Non siamo stati all'opposizione, con responsabilità abbiamo fatto le cose, fatte e le abbiamo portate a casa tutte e quante. Le Olimpiadi solo in Lombardia valgono 6 miliardi e 8. Siccome è finito il mio tempo, ne potrei dire tante altre, ma vi ringrazio, vi auguro Buon Natale e tanti auguri a Eva e a Luca e a Tua. Grazie! Grazie Ale!